Il reddito di cittadinanza è una manovra economica, vera e propria che instaurerà un circolo virtuoso, creerà posti di lavoro che noi daremo, presenteremo alle persone che ricevono il reddito e se rifiuteranno tre posti di lavoro perderanno il reddito. È una manovra che consente di far ripartire l'economia, consente poi di spezzare quel legame tragico che attraverso la mafia e i partiti politici, utilizzando il voto di scambio, continuano a far sì che il malaffare possa entrare all'interno delle istituzioni. L'hanno capito migliaia di persone che stanno marciando qua, guarda che bella gente, questa è veramente una bella Italia, ma di bella Italia ce ne sta tanta anche nelle case, persone che oggi non si sono messe in marcia con noi perché ascoltano messaggi distorti dalla televisione, i giornali ci detestano perché gli vogliamo togliere il finanziamento pubblico, perché poi danno una mano come sempre al sistema. Però tante persone, io sono convinto, sono del Movimento 5 Stelle ma ancora non lo sanno e poco a poco se ne renderanno conto. E viva il reddito di cittadinanza che è davvero la salvezza per questa Italia dove ci sono 9 milioni di poveri e un milione e mezzo di bambini che vivono sotto la soglia di povertà. Non molliamo.